Non ci avrebbero scommesso in molti a Natale, invece il San Giorgio Serico festeggia la permanenza in Serie D con tre turni d'anticipo. I bianco-rosso celesti hanno chiuso i conti in modo matematico superando la Driese 2-1 sul sintetico di casa. Nel primo tempo Bellunesi avanti con la rete dell'attaccante Bartulovic, poi ad inizio ripresa la formazione rodigina perviene al pareggio con il solito Marangon. Ci pensa Manel Minicucci a siglare la rete della definitiva affermazione. Il San Giorgio Serico ora cercherà di concludere bene il torneo, andando domenica in trasferta a Caldiero Terme prima dei due appuntamenti finali contro Cartigliano e Virtus Bolzano. Non sbaglia neppure il Belluna al Polisportivo contro il fanalino di Codacchions. Decide un gol di Corbanese e i gialloblu festeggiano così il raggiungimento dei 51 punti in classifica. Avere il 5 davanti credo sia un ottimo traguardo, un grande merito ai ragazzi, che è abbinato a un podio nei giochi di valore, arricchisce ancora di più la stagione. Sono soddisfatto di questi tre punti che sono arrivati al momento giusto. Abbiamo iniziato a giugno, quindi fra poco è quasi un anno che siamo in campo e per una squadra è difficile fare 12 mesi, raramente capita credo. Il periodo iniziale, la grande disponibilità che hanno dimostrato subito i ragazzi, nonostante la loro grande esperienza, là ho capito che ci potevano fare cose, proporre cose e avere delle risposte importanti e questo è stato importante perché siamo partiti veramente a mille all'ora e i risultati sono arrivati. Domenica Bertagni e compagni saranno arbitri della lotta salvezza andando a far visita al campo d'Arsego.